Trasferta in Germania degli inquirenti tarantini che indagano sull'omicidio di Sara Scazzi. Andranno a Colonia per ascoltare la commessa del fiorista di Avetrana, il quale aveva raccontato e poi ritrattato davanti ai magistrati di aver visto Sara quasi scappare da casa Missieri il pomeriggio del 26 agosto scorso per essere poi ripresa e riportata dentro a forza. Il fiorista in seguito aveva confidato allo suo ex dipendente i fatti. Questa versione che indirizzerebbe il caso verso una conclusione diversa da quella ipotizzata finora fu poi dal commerciante attribuita a un sogno e per questa sua reticenza è stato iscritto nel registro degli indagati. La storia raccontata dal fiorista si sovrappone tra l'altro al quadro scaturito dalle rilevazioni emerse dall'analisi dei cellulari di Sabrina e Cosima Missieri fatta dai RIS. Intanto il professor Luigi Strada, perito della procura, ha depositato le sue conclusioni sulla compatibilità delle ferite presenti sul collo di Sarascazzi con i compressori sui quali, secondo quanto affermato da Michele Missieri, sarebbe caduta. Secondo il professor Strada non c'è alcuna compatibilità e questa conclusione confermerebbe che la quindicenne sia morta soffocata.